Ma se dovessi pavimentare anche un esterno sarebbe indicato il grasso effetto legno? Certo, il materiale è antigenivo e quindi è ottimo per poterlo installare anche all'esterno. Oltretutto questa possibilità di poter utilizzare lo stesso materiale all'interno e all'esterno dà la possibilità, dal punto di vista estetico molto gradevole, di poter continuare, di avere una continuità di materia e di colore per quanto riguarda l'utilizzo della pavimentazione all'interno e all'esterno. Grazie a tutti.